ben trovati ad un nuovo appuntamento della tecnica risponde live come sempre in diretta sulla nostra pagina facebook sul nostro canale youtube potrete seguirci potrete interagire come sempre con la nostra diretta e soprattutto con i nostri ospiti ponendo le vostre domande le vostre domande ovviamente sull'argomento che in questo caso oggi vedete alle mie spalle si occuperà di fondo espero chiediamo in questo caso ci chiediamo sarà il salvagente per evitare la sostanziale riduzione delle pensioni e cercheremo di capirlo durante questa diretta approfondendo l'argomento ovviamente con un ospite che affronterà questo tema e naturalmente qualora ci saranno anche le domande da parte degli ascoltatori le porremo appunto al nostro alla nostra ospite in questo caso cercando appunto le risposte alle i vostri quesiti vi ricordo però di iscrivervi al nostro canale youtube di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo della scuola ma soprattutto i video che la nostra redazione propone quotidianamente nonché le dirette come questa della tecnica risponde live che potrete poi tranquillamente rivedere appunto sul nostro canale ma vi ricordo anche di seguirci sul nostro portale tecnica della scuola punto it e quindi come vi dicevo parleremo di come funziona il fondo pensione complementare dei lavoratori della scuola come si aderisce quali vantaggi quali prestazioni garantisce insomma faremo un po' il punto della situazione cercando di chiarire anche più aspetti e lo faremo durante tutto l'arco di questa diretta con chi lo faremo con la nostra ospite di quest'oggi che vado a ringraziare e salutare vediamo se è in collegamento eccola qui maria grazia penna vicepresidente fondo espero e segretaria generale cisl scuola piemonte buon pomeriggio maria grazia buon pomeriggio daniele buon pomeriggio a tutti grazie grazie di essere con noi ovviamente abbiamo tanti argomenti di cui parlare lo faremo fra pochissimo facciamo però prima una brevissima pausa e poi iniziamo con i temi di oggi grazie a tutti oggi per entrare nel vivo ovviamente con la nostra ospite maria grazia penna vicepresidente fondo espero e segretaria generale cisl scuola piemonte e allora partiamo maria grazia da quello che naturalmente sarà il futuro insomma quello che si prevede ovvero che gli assegni di pensione si ridurranno sempre di più questo è quello che prevede la bozza finora ovviamente bozza della legge di bilancio 2024 che presso in discussione in parlamento è però insomma da qui poi leghiamo ovviamente il discorso a quello che è il fondo espero perché aderire al fondo espero le previsioni pensionistiche insomma proviamo un pochino a spiegare anche di cosa si tratta magari a chi non conosce ancora bene l'argomento maria grazia sì grazie allora facciamo prima di tutto un ragionamento è chiaro che al netto della legge di bilancio che appena stata presentata al senato e che quindi avrà la discussione all'interno delle camere e prima della emissione emanazione definitiva il ragionamento che noi facciamo comunque da anni è che le pensioni dei lavoratori più giovani riceveranno nel tempo una forte diminuzione rispetto a quello che è l'ultimo stipendio eh questa cosa si chiama tasso di sostituzione cioè normalmente i calcoli che vengono fatti sia dall'istat sia dalla ragioneria centrale dello stato sia anche dal sistema pensionistico italiano vedono a fronte di un eh stipendio del cento per cento una sostituzione che può andare dal sessantotto virgola due per cento nel duemila trenta al cinquantanove virgola quattro per cento nel duemila quaranta con trentotto anni di contribuzioni cioè chi va in pensione con l'ultimo stipendio di mille euro prenderà 680 euro nel duemila trenta cinquecentonovanta euro nel duemila quaranta questa preoccupazione riguarda soprattutto quelli più giovani cioè coloro che hanno la maggior parte dei contributi nel sistema contributivo chi è che ha i contributi nel sistema contributivo tutti coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il millenovecento novantacinque chi invece ha contributi precedenti al novantacinque potrebbe essere o in un sistema retributivo o in un sistema misto la differenza tra questi due sistemi è sostanziale perché mentre il sistema retributivo fa fare un calcolo dell'ultima pensione sulla base dello stipendio finale in godimento a cui si applicano alcune aliquote di ricalcolo in realtà il sistema contributivo si basa sui contributi effettivamente versati in tutto l'arco della vita a fronte di stipendi non molto alti ovviamente i contributi corrispondenti non saranno molto alti e quindi si arriverà purtroppo a delle pensioni che saranno il 60 per cento circa dell'ultimo stipendio noi ci poniamo da tempo le organizzazioni sindacali ma anche lo stato da tempo ci si è posto il problema di come ovviare a questo problema questo problema e una delle modalità è la pensione complementare cioè la possibilità di fare un investimento nel corso della propria vita lavorativa attiva versando dei contributi in una gamba stipendiale accanto a quella previdenziale nazionale quindi accanto all'inps una serie di contributi che alla fine possono generare un montante e quindi dare probabilmente anche luogo a una pensione aggiuntiva complementare in questo senso lavora il fondo espero il fondo espero nasce da un accordo stipulato tra le organizzazioni sindacali rappresentative della scuola quindi flc cgl cis la scuola will scuola snals gilda e anp l'associazione nazionale presidi con il ministero stiamo parlando del 2003 2004 gli accordi originali entra a regime dal 2007 con effettivamente un'organizzazione anche di investimento raccoglie adesioni e oggi conta circa 100 mila aderenti dal mondo della scuola provo a fare due piccoli ragionamenti come funziona il fondo innanzitutto il fondo funziona attraverso una serie di raccolte che vengono fatte da parte e dei lavoratori e dello stato o anche dei datori di lavoro privati che man mano nel tempo aderiscono al fondo espero ma che stanno sempre nel comparto dell'istruzione lo stato o i datori di lavoro privato versano per ogni versamento fatto dal lavoratore l'uno per cento dello stipendio base il lavoratore versa di base l'uno per cento e volontariamente può aumentare questa percentuale di stipendio sulla base delle sue scelte le scelte di ciascun lavoratore ovviamente dipendono dalla sua capacità economica nel momento dell'adesione al fondo ma anche nel corso della vita quindi ragioniamo sul fatto che un lavoratore giovane che magari può permettersi di versare qualche cosa in più può aumentare la sua contribuzione e quindi arrivare a una percentuale anche di due cifre di versamento al fondo lavoratori che invece si trovano magari in una condizione di investimento di vita più immediata magari che hanno figli famiglie da mantenere stanno magari con contribuzioni più basse ma faccio notare che questa contribuzione può essere mossa nel corso dell'adesione al fondo tutte le volte che si vuole quindi non ci sono problemi se all'inizio si contribuisce poco si può contribuire di più in corso danno e in corso di vita lavorativa e viceversa diminuire la contribuzione o addirittura stopparla nel caso di necessità per i giovani lavoratori quindi quelli che sono a regime di tfr si prevede poi che al fondo venga versato tutto il trattamento di fine rapporto maturato dal momento dell'adesione il montante dato dal versamento dello stato dal versamento del lavoratore che sceglie in percentuale quale dare e dal tfr crea una massa critica che viene con tutte le masse critiche investita e che produce un capitale al termine del periodo di contribuzione il lavoratore potrà o riscattare il capitale o se raggiungerà una determinata somma anche poter ricevere una pensione complementare a fianco della pensione statale. L'opportunità che il lavoratore ha nel corso della sua vita di contribuzione è quindi quella di non soltanto scegliere quanto contribuire, quanto versare all'interno del fondo ma anche poi decidere man mano come gestire il suo versamento. Ancora una cosa e poi se vogliamo fare un ragionamento diverso su come funziona il fondo è questo al momento dell'adesione chi aderisce al fondo può scegliere a quale comparto aderire le pensioni complementari infatti prevedono che ci siano più comparti di adesione più prudenti o più aggressivi rispetto al mercato del lavoro Espero presenta due comparti attualmente, un comparto prudente che si chiama garanzia e che garantisce lo stesso rendimento che garantirebbe il TFR se non fosse versato nel fondo e un comparto un pochettino più spinto che viene definito bilanciato perché non è molto competitivo rispetto ad altri comparti di fondi che hanno un'esperienza e una adesione più ampia del fondo Espero, questo comparto si chiama crescita e garantisce almeno il 2% in più del rendimento del TFR sulla base di che cosa vengono amministrati questi comparti, chi come me e come molti colleghi fa parte del consiglio di amministrazione decide attraverso tutta una serie di controlli che vengono operati da regole emanate dall'Unione Europea, da regole italiane ricordo che a sorvegliare i fondi pensioni italiani c'è sempre la Covip che è proprio l'ente statale che controlla l'andamento e gli investimenti del fondo di pensioni e le regole a garanzia dei lavoratori e degli aderenti, dicevo che coloro che stanno nel consiglio di amministrazione determinano come bilanciare questi investimenti in modo da garantire sempre nei confronti dei lavoratori questo benchmark. Chi avesse voglia di capire se questa cosa funziona o no può anche soltanto sul sito del fondo Espero andare a vedere quelli che sono i rendimenti del fondo stesso negli ultimi anni, anche nell'anno 2022 che dopo il 2008 è stato un annus orribilis dal punto di vista degli investimenti che però sono sempre maggiori rispetto per esempio al mantenimento del potere d'acquisto degli investimenti fatti in altri comparti. È chiaro che i sistemi pensionistici complementari sono molti alcuni sono extra negoziali quindi stanno nelle scelte delle persone di investire presso banche o assicurazioni attraverso piani di investimento personalizzati o altre forme di investimento. Il vantaggio di un fondo pensione complementare è che i costi sono bassi, molto bassi e quindi al termine del periodo di investimento a parità di capitale versato il montante maturato è molto più alto perché l'indice sintetico dei costi quindi l'indice che dice quanto il fondo deve spendere per il mantenimento dei capitali è un indice che non deve registrare guadagni per chi amministra il fondo perché sono soltanto spese amministrative quelle a carico del fondo stesso. Non so se in questa prima presentazione posso continuare Daniele oppure se... Allora no no sì sì ma ragazza facciamo così dunque sei stata intanto molto chiara hai fatto una panoramica di tutto ciò che appunto che riguarda il fondo espero molto chiaro sei stata diciamo puntuale e precisa ricordiamo ecco come vedete appunto alle mie spalle l'argomento di quest'oggi per chi insomma si fosse collegato adesso fondo espero chiediamo sarà il salvagente per evitare la sostanziale riduzione delle pensioni e a questo ovviamente poi ci siamo collegati anche in apertura nella nostra introduzione perché insomma proprio da questo siamo partiti dal fatto che comunque gli assegni di pensione si ridurranno probabilmente sempre di più così come prevede la bozza della legge di bilancio 2024 che appunto è in discussione quindi insomma vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane e ovviamente ci siamo poi collegati appunto al fondo espero proprio perché a questo punto molti docenti si riverseranno sul fondo e spero lo hanno fatto già in centomila come diceva maria grazia finora questo è il dato ma ovviamente insomma il numero che potrebbe aumentare ancora in futuro ma ragazza prima parlavi di quanto si versa quanto si versa al fondo e quali prestazioni quali prestazioni appunto ci sono da parte del fondo i comparti di investimento io magari tornerei un attimino ancora su questi argomenti se sei d'accordo certo è vero che ne hai è vero che è vero che ne hai parlato li hai affrontati li hai affrontati prima però magari se vuoi dare qualche dettaglio in più visto che ma stiamo parlando anche a tanti ascoltatori che ci stanno seguendo e magari sono interessati a questo ripetiamo magari un attimo anche le percentuali le cifre soprattutto le prestazioni e anche un attimo i comparti di investimento in modo che chi anche chi si è collegato adesso può capire ancora meglio questi aspetti ma le grazie certo riprendo quindi il fatto che chi decide di iscriversi al fondo può versare dall'uno a una percentuale più alta di proprio stipendio dall'un per cento in su il datore di lavoro versa sempre l'un per cento mi permetto di sottolineare se uno i soldi li versa in un piano di investimento pensionistico di natura privatistica è chiaro che il datore di lavoro non fa l'investimento che invece lo stato fa nel fondo espero quindi c'è già un guadagno automatico di un un per cento che lo stato mette a disposizione e poi c'è il versamento del tfr questo perché perché alla fine quando ci sarà la maturazione di un capitale che viene generato proprio dagli investimenti che vengono operati durante l'attività di del fondo ma durante il periodo di iscrizione chi va in pensione può scegliere alcune prestazioni e dicevamo prima una prestazione sicura che quasi tutti gli aderenti al fondo di prima adesione quindi quelli un po più grandi come posso essere io avranno è la prestazione in conto capitale cioè una restituzione dei soldi versati e dei soldi accumulati e dei soldi così come sono stati fatti rendere secondo gli investimenti investimenti del fondo ehm in una misura significativamente più alta di quella che potrebbe essere la eh liquidazione finale il tfr o il tfs per chi è ancora in regime di tfs cioè per gli assunti ante duemila eh mentre per chi è più giovane quindi rimane più anni nel fondo la possibilità di avere una prestazione finale anche di natura pensionistica quindi la seconda gamba pensionistica non è soltanto una ehm situazione reale cioè siamo certi che eh con una adesione al fondo con una contribuzione significativa per un po' di anni eh si arriva alla fine ad avere un montante che genera una pensione complementare ma c'è la possibilità anche per questi giovani lavoratori di decidere di avere o una parte dei soldi già versati in capitale e una parte ai fini pensionistici oppure addirittura eh viene concessa a chi è iscritto da almeno otto anni al fondo sia vecchi aderenti che nuove aderenti la possibilità di avere delle anticipazioni le anticipazioni per le prestazioni diciamo ante pensione sono eh legate soprattutto a tre questioni motivi di salute eh situazioni familiari e motivi di studio quindi chi eh avesse necessità di sostenere delle spese straordinarie rispetto al proprio budget eh normale di amministrazione della vita ed è aderente al fondo dopo atto anni di iscrizione può accedere anche a delle anticipazioni da parte del fondo quindi prendere questo capitale in anticipo ricordo in questo senso che noi statali non abbiamo invece la possibilità di avere gli anticipi del TFR cosa che per esempio i lavoratori dei settori privati hanno quindi in questo senso c'è anche un tentativo di colmare un gap eh rispetto ad alcuni diritti ed alcune prestazioni eh di differenza tra il pubblico e il privato. C'è un altro vantaggio nell'iscriversi al fondo. Quando ci si iscrive al fondo i contributi versati possono essere dedotti dal reddito. Anche qua una distinzione tra le deduzioni e le detrazioni fiscali. Le detrazioni fiscali sono quelle che abbassano l'imposta da versare. In questo caso noi parliamo di deduzioni cioè di una possibilità di abbassare il reddito sul quale si calcolano le imposte. Quindi eh fino a 5.164,57 euro all'anno di versamenti eh c'è una convenienza economica proprio perché tutte queste cifre vengono calcolate come una sottrazione del reddito. Un reddito più basso su cui calcolare le imposte da versare. Quindi c'è una prima convenienza dal punto di vista fiscale. Una seconda convenienza fiscale soprattutto per chi aderisce dal 2018 in avanti quindi per i giovani è quella della tassazione agevolata rispetto alle prestazioni. Eh chiedo scusa se entro un pochettino nel tecnico però la la questione è estremamente tecnica. Se uno chiede un prestito eh ovviamente paga eh oltre che gli interessi le imposte. Se invece c'è chiede un'anticipazione del fondo su questo reddito eh nuovo che viene erogato al lavoratore fino a qualche anno fa fino a prima del 2018 veniva applicata un'aliquota di tassazione che era una eh aliquota fatta sulla tassazione separata aliquota media degli ultimi cinque anni. Oggi ai lavoratori eh che dal 2018 in avanti eh hanno aderito e che volessero appunto chiedere un'anticipazione o comunque una prestazione diciamo anticipata eh viene richiesto un pagamento di un'aliquota che va dal 15 al 9 per cento. Se noi ragioniamo che la media delle aliquote in tassazione separata poteva essere circa 23-24 per cento oggi c'è ancora un'ulteriore convenienza perché la tassa da pagare su questo reddito è più bassa di quella che si aveva in precedenza. Infine ancora un commento se normalmente uno ha un investimento in rendita e su questo investimento paga questo per legge dello Stato il 26 per cento gli investimenti nel fondo espero hanno nel fondo espero in generale nei fondi di previdenza complementare hanno una tassazione più bassa cioè il 20 per cento e addirittura nei nelle parti di fondo che eh prevedono un investimento in titoli di Stato, BOT, BTP eccetera la tassazione è ancora più bassa perché è al 12,5 per cento. Ora tutti i governi che si sono succeduti negli anni dicono eh che nei confronti della dei giovani e delle donne occorre ehm fare degli investimenti proprio sulla materia pensionistica sia perché specialmente per i giovani i gap contributivi cioè i buchi di 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 contribuzione sono tanti e sono discontinui i lavori dei giovani e eh le donne entrano nel mondo del lavoro magari più tardi o lasciano occasionalmente il mondo del lavoro per dedicarsi ai figli, alla casa, alla famiglia. Eh questi gap contributivi sono oggettivamente copribili in parte eh da interventi pensionistici da parte delle casse previdenziali dello Stato ma sicuramente hanno e lo dicevamo prima come salvagente la previdenza complementare quindi per noi i lavoratori per i lavoratori della scuola il fondo è spero che è una convenienza particolare. Mi soffermo su una cosa che riguarda invece le persone un po' più grandi cioè coloro che o assunte prima del duemila in regime quindi di TFS o eh già iscritte al fondo ma con le regole precedenti io eh per esempio mi sono iscritta al fondo nel duemilasei quindi ho già maturato una discreto cumulo eh dal punto di vista dei contributi versati ehm nei confronti di queste persone e comunque in generale eh di tutti coloro che iniziano ad aderire al fondo a un certo punto della loro vita lavorativa tutto quello che è stato maturato precedentemente TFS o TFR rimane nelle casse INPS, INPDAP, ex INPDAP per meglio dire e poi verrà erogato al momento della prestazione. Che differenza c'è a favore dell'adesione al fondo che in questo momento il fondo riesce ad erogare a pochi mesi di distanza dall'uscita pensionistica la propria prestazione comprensiva del TFR eh veicolato nel fondo mentre eh normalmente l'attesa di erogazione della TFS o del TFR per i lavoratori statali va dai 24 a oltre mesi dipende dal tipo di uscita che hanno e dalla tipologia di trattamento e di regime nel quale cadono per cui c'è anche un'opportunità di adesione proprio per avere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto che altrimenti rimanendo sotto regime solo stato non ci sarebbe. Eh proseguo ancora eh nel l'annunciare che eh oltre ai vantaggi fiscali oltre agli aspetti di natura organizzativa il fondo ha la fortuna di avere un team di dipendenti molto solerte sollecito e sul sito del fondo è possibile trovare sia alcuni programmi di simulazione quindi ciascuno può inserendo i propri dati capire che cosa è il suo futuro pensionistico con o senza l'adesione e in secondo luogo ha una serie di spiegazioni anche proprio sulle tipologie di investimento sulla modalità di erogazione delle prestazioni di cui abbiamo parlato poc'anzi quindi che sia pensione che sia anticipazione che sia conto capitale ma anche la possibilità di avere un dialogo abbastanza frequente e continuo sia attraverso le chat che si aprono direttamente con l'apertura del fondo sia eh attraverso le email che sono riportate sul sito del fondo alle quali vengono date risposte anche specifiche mh per esempio nei casi in cui ci siano dei lavoratori che vogliono trasportare eh dei versamenti già effettuati in altri comparti in altri fondi pensione di natura privata o pubblica e vogliano traslocarli al fondo estero perfetto allora Maria Grazia hai fatto ancora eh chiarezza anche su questi aspetti eh io direi facciamo così ti faccio prendere un po' fiato facciamo una piccola una piccola pausa di eh pochi secondi poi torniamo perché eh dobbiamo completare la scaletta con ancora altri argomenti e poi stanno arrivando anche delle domande da parte dei nostri ascoltatori per eh la nostra ospite quindi proveremo a rispondere nella seconda parte a tra poco grazie a tutti eccoci ritornati per la seconda parte di questo appuntamento della tecnica risponde live siamo in diretta sia sulla nostra pagina facebook che sul nostro canale youtube vi ricordo sempre di iscrivervi e di attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutta la produzione video ovviamente che la nostra redazione eh propone nonché sulle dirette della tecnica risponde live eh su eh questo tema per esempio quello che stiamo affrontando oggi ma naturalmente anche su mh tanti altri e poi il nostro portale tecnica della scuola punto it eh dunque stiamo parlando di fondo espero come vedete mh nel titolo alle mie spalle sarà il salvagente per evitare la sostanziale riduzione delle pensioni ne stiamo parlando con Maria Grazia Penna vicepresidente fondo espero e segretario generale CISL scuola Piemonte nella prima parte con Maria Grazia abbiamo affrontato già diversi eh temi perché aderire al fondo espero o quanto si versa al fondo le prestazioni con parti di investimento eh insomma tanti tanti aspetti tra l'altro appunto la diretta la potrete eh rivedere su eh youtube anche una volta terminata però Maria Grazia stanno arrivando anche delle domande che io ti giro mh così proviamo anche a rispondere ai nostri ascoltatori per esempio eh Mimmo eh chiede come mai c'è poca conoscenza riguardo al fondo è vero o non è vero come la vedi? Allora sì eh è interessante la domanda di Mimmo perché ci mette a fronte di due ragionamenti uno che è il fatto che chi eh inizia a lavorare per lo Stato in generale perché ovviamente il fondo espero è il fondo dei lavoratori della scuola ma accanto c'è il fondo dei lavoratori statali che il fondo sirio chi inizia a lavorare per lo Stato presume di avere comunque un sistema pensionistico sicuro e una carriera più continuativa e quindi si pone di meno il problema delle pensioni paradossalmente nel privato l'ho detto prima un po' volando ma lo dico c'è una cultura diversa di adesione al fondo pensione io penso ai colleghi dei metalmeccanici che hanno uno dei primi e forti fondi pensione che sono stati creati e che è il fondo Cometa loro hanno addirittura cinque comparti di investimento e i giovani appena entrano nel mondo del lavoro automaticamente si iscrivono senza neanche porsi il problema perché si rendono conto dell'importanza forse un po' una mentalità statale quella di dire beh insomma io comunque ho un percorso non tanto difficoltoso perché entro in un sistema che è considerato nell'immaginario collettivo più protetto e quindi me ne occuperò quando andrò in pensione su questo io approfitto per dire il tempo è una variabile non indipendente se qualcuno ha voglia di provare a farsi una simulazione si accorge che un anno di ritardo nell'adesione dei fondi pensione può anche significare qualche migliaio di euro in meno di capitale accumulato ai fini del calcolo finale di quello che è il montante di conseguenza anche ai fini delle prestazioni sia pensionistiche sia eventualmente di anticipazione se occorre nell'arco della vita quindi io credo che la poca conoscenza riguardo al fondo dipenda sì sicuramente dai canali di informazione adesso noi come fondo abbiamo potenziato i canali social instagram facebook c'è una certa frequenza anche di pubblicazione io invito gli interessati a iscriversi alle pagine proprio perché c'è anche un'informazione diretta e c'è un altro aspetto e questo mi corre l'obbligo è di sottolinearlo nelle sedi sindacali la scuola organizza presso tutte le sedi territoriali ma posso dirlo delle tutte le organizzazioni che hanno fanno parte delle dei soggetti fondatori del fondo momenti di formazione ma anche momenti di consulenza individuale quindi alle persone a cui interessa fare un approfondimento rivolgendosi alle sedi periferiche delle strutture sindacali si può avere qualche informazione più dettagliata e magari anche qualche rassicurazione maggiore rispetto a quella che è una indifferenza piuttosto che una qualche dubbio io so che tantissime persone fanno l'investimento vanno dal proprio assicuratore dal proprio bancario di fiducia e gli dicono dimmi quanto verso e per avere una assicurazione vita no si diceva questa cosa ecco il fondo espero è di fatto un'assicurazione vita che costa molto meno di un versamento nel sistema privato certo allora ehm poi c'è una domanda da parte di di Carla eh già hai risposto l'hai spiegato già nella prima parte però magari lo vogliamo ecco anche ripetere nuovamente come si fa ad aderire una domanda io le ringrazio Carla perché effettivamente nella spiegazione di come funziona il fondo non ho detto una cosa fondamentale è molto semplice ad aderire al fondo perché per noi lavoratori statali si passa attraverso noi pa eh il sistema noi pa cui accediamo per scaricare i cedolini di stipendio le certificazioni uniche le le cu le cu per la dichiarazione dei redditi ha una sezione che si chiama previdenza da cui si può passare a previdenza quindi coi contributi versati presso lo stato e previdenza complementare e lì c'è l'accesso eh al fondo espero che viene fatto quindi attraverso lo speed quindi senza nessun tipo di altro altra autenticazione se non il sistema noi pa per i lavoratori del privato invece mi permetto ancora una piccola eh un excursus quindi quelli che lavorano nella formazione professionale da pochissimo il fondo accoglie anche i lavoratori della FISM cioè delle federazioni delle scuole materne private eh proprio dieci giorni fa è stato chiuso l'accordo con la FISM eh l'adesione vi è avviene attraverso la compilazione di documenti che si possono scaricare dal sito e che devono essere trasmessi attraverso il proprio datore di lavoro chiarissimo allora andiamo avanti ancora Angela eh quindi se ho capito bene ehm posso scegliere alla fine posso scegliere se riavere tutto il capitale oppure avere la prestazione pensionistica possiamo fare chiarezza anche su questo sì sì assolutamente eh anzi la le ringrazio Angela perché mi consente di fare una precisazione ulteriore che nella galoppata iniziale non ho potuto fare eh la risposta è sì o no dipende dalla situazione di cumulo del capitale nel senso che se al termine del proprio percorso diversamento il fondo genera una pensione complementare pare all'assegno sociale previsto per l'anno in cui eh si determina la prestazione siamo intorno ai 500 euro mensili adesso come assegno sociale allora è possibile prendere metà capitale e il resto lasciarlo nel fondo per la pensione sociale per la pensione complementare scusate se invece il montante finale è più basso quindi non si genera la ehm una pensione complementare pari all'assegno sociale eh a questo punto le persone possono invece prendere tutto il capitale eh va chiaramente valutata la situazione sulla base del numero di anni di versamento e eh quantità di contributi versati. Ok perfetto quindi possiamo eh continuare eh con eh Angelo che invece dice sono un lavoratore mh della scuola ho iniziato a lavorare eh l'undici gennaio duemila uno dato che andrò in pensione nel duemilacinquanta a settant'anni lavorando per cinquant'anni mi conviene fare il fondo espero? Caspita sì. Caspita sì nel senso che voglio dire auspicando che il sistema pensionistico trovi soluzioni anche per evitare ehm quello che è il burnout di un lavoratore che per così tanti anni rimane nel sistema lavorativo sì assolutamente il fondo espero è eh proprio la soluzione ottimale per chi rimanendo così tanto e andando in pensione così tardi quando sicuramente la sostituzione tra l'ultimo stipendio e la prima pensione sarà sessanta per cento cioè se prendo mille euro di stipendio ne avrò seicento di pensione allora avere il fondo estero che garantisce la gamba complementare magari garantendo gli altri quattrocento gli altri trecentocinquanta che mancano al tasso di sostituzione è assolutamente non conveniente fondamentale per una qualità della vita eh dignitosa senza contare Daniele scusa mi permesso sì sì vai 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 nel corso del versamento c'è un vantaggio economico e fiscale che è quello che dicevo prima i contributi versati vengono dedotti quindi diventano di fatto un abbassamento del reddito quindi c'è una convenienza proprio anche dal punto di vista della del lavoratore nel corso della vita lavorativa non soltanto al termine del percorso certo allora eh sì c'è già in sovraimpressione la la prossima domanda mi potete spiegare quando andrò in pensione se aderisco ora a fondo espero come avviene la liquidazione del fondo ridico quello che ho già detto prima e l'hai già spiegato prima eh lo ridiciamo magari brevemente eh se eh si raggiunge un capitale che garantisce l'assegno sociale la liquidazione del fondo può avvenire o solo con assegno sociale quindi eh ogni mese verrà erogata una prestazione eh di pensione complementare oppure si può prendere una parte di capitale oppure se non si raggiunge l'assegno sociale tutto il capitale quelli sono conti che vengono fatti al momento dell'uscita quindi quando uno va in pensione eh si fa fare i conti dal fondo espero cioè sarà il fondo espero a dirgli guarda tu hai raggiunto eh la possibilità e puoi scegliere questa strada piuttosto che quest'altra se si sceglie la strada capitale nel giro di due mesi tre mesi dalla richiesta viene liquidato il capitale. Perfetto eh le domande continuano cara Maria Grazia quindi preparati perché ne abbiamo ancora eh allora si può far traslocare su espero il TFR già maturato e detenuto dall'Inps? No no purtroppo in questo momento no si fa traslocare su espero solo il TFR maturando cioè quello che si maturerà dal momento dell'adesione si può far traslocare su espero l'eventuale eh maturazione di capitale presso un altro fondo di pensione complementare. Ok quindi abbiamo risposto anche a questo eh altro ascoltatore poi abbiamo eh Elidia a chi mancano nove anni per andare in pensione conviene? Guarda conviene anche soltanto perché è l'uno per cento dello Stato se no non ti viene versato quindi tu hai eh Elidia in questo caso un versamento che eh si accumula e che ti anticipa eh un pochettino la liquidazione del TFS e TFR al netto del fatto che magari si supererà questo problema della liquidazione della della liquidazione così tardivamente per noi statali però se non si superasse eh eh versare eh sul fondo espero ci garantisce un anticipo proprio eh cioè nel senso i soldi vengono dati prima di quello che fa lo Stato ma in ogni caso eh dal punto di vista economico prendi l'un per cento del dello Stato che se no non prendi. Quindi conviene diciamo. Conviene oltre agli aspetti di deduzione fiscale di cui ho parlato prima. Sì 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 sì. Non conviene dal punto di vista della pensione cioè a Elidia non verrà mai erogato una pensione complementare chiaramente però è un investimento economico che che le torna indietro al al momento della pensione. Un futuro certo. Allora poi abbiamo Simona eh sono entrata di ruolo nel duemilacinque ed ho anche aderito al fondo. Ho cinquantasei anni e venticinque anni di contributi all'età pensionabile cioè 67 anni potrò riprendere tutto il capitale alla liquidazione? Eh tenderei a dire di sì a Simona perché è una situazione assolutamente simile alla mia e ehm e quindi mi sono già fatta delle proiezioni e dei calcoli e tenderei a dire di sì perché eh per quanto il capitale sia significativamente altro l'erogazione alto l'erogazione di una pensione sociale dell'assegno sociale probabilmente mh per tutto l'arco della vita non è non è sufficiente probabilmente perché eh con altri undici anni di versamento e quindi 36 anni di contributi si potrà arrivare al pelo dell'erogazione ma probabilmente non arriverà eh completamente poi questo però dipende da quali percentuali Simona versa perché se Simona continua a versare l'uno il 2% e lo stato l'1% è chiaro che il montante al fondo rimane costante. Se Simona decidesse nel prossimo periodo di fare un versamento significativo nel fondo a questo punto probabilmente potrebbe anche eh provare ad avere la pensione complementare. Capisco che però la domanda è volta più ad avere un capitale liquidato quindi alla liquidazione finale quindi in teoria dovrebbe arrivare a a quanto. Perfetto allora ci fermiamo per un attimo con le domande eh Maria Grazia tornerei alla alla scaletta perché eh avevamo anche eh un altro tema che era quello della novità del consenso consapevole. Ecco ne ne vogliamo ne vogliamo parlare eh così poi insomma andiamo un po' anche a concludere il nostro appuntamento. Eh 30 secondi per dire che eh proprio in virtù di quanto ho detto prima cioè i giovani lavoratori avranno una necessità di copertura previdenziale molto eh più esigente molto diversa rispetto a quella che hanno i lavoratori più anziani eh è stato siglato presso l'Aran un accordo tra il datore di lavoro Stato e le organizzazioni sindacali rispetto al fatto che gli assunti dal primo gennaio 2019 in avanti entrano automaticamente in espero salvo che decidano di non entrare. Tecnicamente questa cosa si chiama silenzio assenso. A noi piace di più chiamarla con senso consapevole cioè ehm faremo di tutto come fondo e come organizzazioni sindacali per fare assemblee e consulenze e occasioni di incontro per spiegare ai giovani lavoratori che eh entrare nel fondo in modo automatico è un modo conveniente per garantirsi il loro futuro. In ogni caso vorrei tranquillizzare fin da oggi coloro che in qualche modo eh desiderino non aderire eh il silenzio assenso o meglio il compenso il consenso consapevole ehm ha eh un periodo di latenza cioè nei nove mesi successivi al momento dell'inizio eh il lavoratore può sempre dire no non mi sento di eh entrare nel fondo e comunque anche passati nove mesi ci sono ancora trenta giorni per un eventuale rientro nelle posizioni di non adesione al fondo. Cosa che nessuno di noi consiglia eh francamente lo dico con tranquillità e per questo motivo cercheremo di dare come dicevo sia come fondo che come eh organizzazioni sindacali eh le maggiori informazioni possibili. Questo accordo dovrebbe essere firmato a breve nel senso ci parlano ci diceva il nostro presidente eh diciamo entro fine anno sicuramente ma probabilmente anche prima e quindi avremo occasione a gennaio sicuramente di riparlarne con maggiori approfondimenti. Bene allora ehm abbiamo un'ultima un'ultima domanda Maria Grazia che eh ti mostro eh da parte di Veronica se si aderisce inizialmente all'un per cento successivamente si può aumentare la percentuale? Si può aumentare la percentuale sempre attraverso noi pa quindi sempre attraverso il sistema diretto di comunicazione dello Stato e se si è aumentata si può diminuire quindi assolutamente sempre variare eh man mano che si ritiene di voler cambiare così come è possibile sempre noi pa variare il comparto quindi passare da crescita garanzia o da garanzia crescita a seconda della propria situazione eh di uscita pensionistica. Perfetto allora eh vi ricordo che tra l'altro le domande le eh troverete anche eh sul sul canale YouTube appunto sulla diretta eh oltre che naturalmente sul nostro eh portale proprio eh sul eh pezzo sull'articolo mh della diretta che stiamo svolgendo adesso. Allora siamo in chiusura eh stanno ancora continuando ad arrivare domande per la nostra Maria Grazia a questo punto eh andiamo ancora con questa da parte di Fabiola se facendo i calcoli si ha meno di vent'anni di contributi è conveniente aderire a tale fondo per integrare la pensione? Allora con meno di vent'anni di contributi già versati eh immagino che sia questa la domanda assolutamente assolutamente sì è conveniente ma come ho risposto in anticipo eh prima qualche altro collega è comunque sempre conveniente anche a chi ha già 40 anni di contributi versati per le due ragioni tecniche dell'un per cento dello Stato che altrimenti non si prende e della deduzione rispetto al reddito fino a 5.164 euro cioè si possono versare eh contributi abbassando il reddito quindi di fatto sono contributi sui quali non si pagano le tasse e quindi eh spieghiamolo in maniera proprio deduzione vuol dire abbassare il reddito quindi vuol dire che io verso dei contributi e di fatto pago meno tasse e quindi ho un doppio vantaggio sia perché prendo i soldi dello Stato sia perché percentualmente pago meno tasse perché se un reddito è più basso è possibile che sia più bassa l'aliquota. I calcoli sulla possibilità di avere la pensione o meno io consiglio Fabiola e tutti gli amici e colleghi interessati di provare sia sul sito del fondo sia presso come dicevo prima le sedi sindacali eh noi siamo ben organizzati in questo senso e offriamo consulenze costanti e quotidiane proprio sulla materia quindi anche a fare una piccola proiezione avvicinandoci alla sede sindacale. Noi come CISL a scuola abbiamo proprio una struttura che prevede una serie di incontri con i lavoratori interessati. Eh Carla che ci aveva eh già scritto prima ci chiede cosa succede con gli insegnanti precari? Quando aderiscono al fondo eh versano quando non hanno lo stipendio quindi nel caso in cui per esempio abbiano un contratto al 30 giugno nel periodo di non copertura del contratto non versano fermo restando che possono versare volontariamente tutti i lavoratori della scuola precari e di ruolo possono comunque decidere di fare un ulteriore versamento rispetto a quelli della trattenuta diretta sullo stipendio. Io verso l'uno per cento e me lo trattiene lo Stato dallo stipendio sul mio cedolino di stipendio vedo l'altro uno per cento che lo Stato versa per conto mio smalto di avere lo stipendio non verso ma rimango iscritto al fondo il capitale versato viene comunque rivalutato eh secondo le regole che che si sono scelte crescita o garanzia posso decidere volontariamente di versare al fondo dei contributi aggiuntivi cosa che qualcuno fa proprio nel calcolo che dicevo prima della deduzione cioè dell'abbassarsi il reddito versare fino a 5.164 euro significa mettere dei soldi al sicuro invece di metterli in banca eh sotto la mattonella o da qualche parte li metto in un posto dove vengono rivalutati e in più ho il vantaggio dell'abbassamento delle tasse. Eh sì insomma è questo diciamo poi eh l'obiettivo. Allora eh Maria Grazia ci fermiamo per il momento eh facciamo una piccola pausa eh per pochi secondi e poi ritorniamo per i saluti Grazie a tutti Eccoci ritornati per eh la chiusura di questo nostro appuntamento eh ritorno nuovamente da Maria Grazia Penna e prima di ringraziarla e salutarla eh Maria Grazia ti mostro ancora quest'ultima eh domanda così poi andiamo in conclusione da parte di Fabio se si esce con un'ape sociale quando si percepirà l'assegno espero? Si percepirà al momento del ehm pagamento della pensione quindi quando si smette di contribuire si può riscattare. Perfetto perfetto poi c'era un nostro eh ascoltatore ancora in chiusura che diceva aderito all'un per cento oltre a versare tale quota ne verso un'altra di pari valore che nel cedolino viene indicata come quota base lavoratore. Potrebbe spiegarne il il significato? Sì certo eh quote base del lavoratore è l'un per cento obbligatorio nel senso che quando si aderisce al fondo eh si parte da un presupposto di parità di versamento tra datore di lavoro un per cento e quota base lavoratore un per cento. Il un per cento aggiuntivo è stato scelto da Giovanni nel momento in cui è aderito al fondo. Giovanni a questo punto può decidere di aumentare questo un per cento aggiuntivo facendolo diventare il due, il tre, il quattro oppure mantenerlo. Ricordo che può farlo diventare il due per cento l'anno prossimo e tornare all'un per cento tra due anni a seconda della sua capacità economica e contributiva e delle valutazioni personali che ciascuno ritiene di fare nella propria vita. Benissimo allora questa volta era veramente l'ultima cara Maria Grazia come hai visto insomma poi eh le domande man mano da parte di nostri ascoltatori arrivano perché eh sono stati in tanti a eh seguirci e perché evidentemente insomma è un argomento un tema che eh interessa no interessa tanti abbiamo detto lavoratori eh della scuola siamo partiti proprio dal eh dal discorso delle pensioni insomma che gli assegni probabilmente si ridurranno sempre più e siamo arrivati poi appunto a parlare del eh fondo espero e del eh di tutti i dettagli insomma le spiegazioni che Maria Grazia ci ha dato eh su eh come aderire quanto si versa le prestazioni e tanto tanto altro. Allora non mi resta che eh ringraziare salutare Maria Grazia Penna vicepresidente Fondo Espero e segretaria generale CISL Scuola Piemonte grazie Maria Grazia a presto. Grazie Daniele grazie agli ascoltatori ricordo la nostra disponibilità sia sul sito del fondo che presso le sedi sindacali per consulenze individuali. Assolutamente fatto bene a eh ricordarlo io ringrazio anche tutti voi che eh ci avete eh seguito avete posto le vostre domande le potrete ovviamente rivedere come spiegavo prima sul canale eh YouTube nonché sulla pagina Facebook sul nostro portale tecnica della scuola eh punto it eh ringrazio anche eh Rocco Gibiras che ha curato la eh regia e naturalmente torneremo presto con nuovi appuntamenti della tecnica risponde live. Grazie. Grazie.